Io penso esattamente il contrario, penso che il lavoro stabile sarà molto più facile con la riforma del mercato del lavoro. Il lavoro stabile è quello che dà più diritti, dà più diritti quando lavori, dà più remunerazione, ti dà maternità sindacale, ti dà malattia, tutti i diritti che la maggior parte dei lavoratori italiani non hanno e soprattutto il lavoro stabile è quello che ti dà più competenze, la vera molla per gli investimenti.